E salve a tutti amici di Cooper e benvenuti in un nuovissimo video su Next Day Survival Questo gioco l'avete visto nel video, quello dove vi ringraziavo Come sottofondo, dove eravamo nel bunker con tre ragazzi che avevo trovato random E niente, questo prende a calci così E nulla, siamo su questo bellissimo gioco perché alla fine è bello Gente con il carro armato pure Hello E la madonna Bene, allora questa è un po' di roba che ho qui nell'inventario Quello di quest'altro outpost, un po' di questa roba Le cure, il cibo e le cose Hello Vediamo se rispondo Niente E nulla, qui ci trovo sempre le stesse cose Questi sono looter quindi sono amici Allora perché, come funziona? Praticamente se apriamo il coso Ci sono il looter che è una fazione E i civili hanno un'altra fazione Che vedo tanti Sì, 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 sì Sì, sì, sì Mentre i traitor credo siano quelli che di qualsiasi fazione abbiano tradito Quindi sono andati ad ammazzare gente su, giù, destra, sinistra Ora, la mia missione attuale è quella di arrivare Qua No, qua no, qua In quest'altra zona rossa perché Lei ci dovrebbe essere un po' di loot carino Quindi Però voglio andare a vedere Non so se è la zona giusta Sì Che di qua si va per il bunker Però c'è anche un campeggio Di Sivilian Quindi devo pure mangiare adesso Che palle E niente, quindi questo è uno dei primi video Che vedete mentre io sono via Quindi Yeah, sono riuscito a fare almeno un video E niente Quindi spero che siate contenti E niente, non c'è nessuno Eh Se ne sono andati Ok, questo che è? Pain killer Può servirmi Questa roba inutile Nulla E nulla 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 Ok, allora Quindi io devo correre verso questa zona Però io so anche che Se andiamo qua C'è anche Ci sono i militari Una volta chiuso play Ce ne vogliamo andare qua In quel In quell'altro cerchio rosso Che qui Allie sarebbero i Sivilian Quindi questo qua Però gli enemi sono quelli Rossi Però per me quelli rossi sono gli amici Perché io sono a quanto pare nei nemici E quindi Eh Ora come gear So che dovrà C'ho l'elmetto più potente Ho il La maia Quella più potente Perché copre 45% E dovrebbe essere la più potente Che esiste In più C'è i pantaloni Anche quelli teoricamente Ora Mangio questo Nella speranza che non ci sia nessuno Ora Visto che siamo qua Da epot Voglio controllare un pochettino Se magari ci fosse Qualcosa Qualcuno Eccetera Poi Magari Vi voglio Cioè Mi interessava portarvi Anche Dark and Light Perché sinceramente Ci sto un po' Nerdando anche lì Allora Quello non è nessuno Che non pensavo Ma sinceramente È un bel gioco Ero molto scettico Perché dicevo Questo è come vedere Arc Ottimizzato di merda Invece Invece Mi sono molto Soddisfatto Via Poi Vabbè Giocandoci con gli amici Poi Alla fine Lì hai sempre uno scopo Devi sempre fare qualcosa Perché Non è come Arc Te devi solo salire di livello Puoi fare di tutto Per salire di livello E E alla fine Non puoi avere tutto Cioè Non puoi costruire poi tutto Invece qua Poi su Coso Su Dark and Light Puoi costruire tutto quello che vuoi Basta che poi Salendo di livello Aumenti di livello Anche Le Le conoscenze Oh Oh Quindi Mi sbaglio sempre Ok Ottimo Ho trovato altri 100 colpi Da K Sono contento Una batteria Quanto pesa Abbastanza Sembra Ok Questo Allora Questo è uno zainetto Non è il più Grande del gioco Però è uno Dei più grandi Insomma Ci si avvicina al più grande Perché è quello medio Da cacciatore Che ha 35 Ha 30 kg E 30 slot 35 30 e 35 Mentre c'è un altro E quello grande Grande Che non Sinceramente non ricordo Che cosa Però ha Insomma È tanta roba Quello grande di questo Allora qua Devo essere sincero Che non ci sono mai stato Mio dio Mi è pure uscito un qua Stranissimo Non mi interessano Quei quanti Devo stare attento Che non ci siano Gli NPC Perché qui alla fine Il problema Sono Tanto Eh sbaglio Sono gli NPC Il problema Qua Non tanto I player Allora Questo mi ricorda Moltissimo Stalker Una Una zona Di stalker Ok Vediamo Qui Binocolo Che non mi interessa Forse si Perché Ho lo spazio Libero Nel 3 Comunque poi Ditemi Se magari Volete Che porti ancora Dei video Qui su Next days Perché È bello A me piace tantissimo Mi ha preso tanto Ci ho già fatto 18 ore Forse un po' di più Non ricordo Che cos'è Il toolkit Quello per riparare Le Uuu E Sì Insomma Ci ho fatto già Tante ore Su questo gioco Perché mi ha preso Veramente tanto Cioè L'avevo vista Da youtuber Americani E Niente Me ne sono Innamorato Questo copia 30 Il mio 35 Ok Da mettere Giochiamo a calcio Con la scatola Allora Poi Mi piace Soprattutto Per l'atmosfera Che Che dà Questo gioco Lasciamo Quell'arma Lì Perché Fa Da Proprio Una bella Atmosfera Allora Vediamo un secondo Non ha colpi Ok L'atmosfera Molto Molto Cupa Molto Russa Molto Anche Stalker Che io Stalker Lo amo Come gioco Ma Cioè Non ho Non ci sono mai riuscito A giocarci tanto Insomma Allora Là Non mi sembra Di vedere Chissà Che cosa Ma che Cazzo Sì Vabbè Ovviamente No In Alpha E in Early Access Quindi no Cose strane Succedono Però Sicuramente Posso dirlo È meglio di escape Cioè Costa 9 euro 9 euro Mai spesi così bene È fatto bene C'è C'è poco da dire La mappa Non è che sia Chissà Quanto grande Perché può ospitare Fino a 25 persone E alla fine Te la fai molto Velocemente Non è come dei ziki È troppo enorme Per Per quello Per Porca bruttana L'infarto L'infarto Oh mio dio Oh mio dio Non me l'aspettavo Che cazzo Che cos'è Un cacciavite Prendiamolo Perché si Allora Dicevo È fatto Molto bene Rispetto ad escape E Oh no Mi sono rotto le gambe Eh Se era escape Me le ero già rotte qui Mmm Dicevo Per la ventesima volta È molto bello Secondo me Rispetto ad escape Perché Cioè Mmm Non è che sia Strabagato Come escape Insomma Qui si va Fluidi Comunque Il ping 85 Per me È un ping Normalissimo Per la connessione Che mi ritrovo Quindi Va bene Per me E Comunque Il Non desinco Che tra l'altro Se mi seguite Sulla pagina facebook Se siete arrivati A questo punto Magari vi lascio Una scritta All'inizio Non lo so Che vi invito Ad andare Perché magari Posso delle notizie Delle cose Eccetera E allora Ho fatto praticamente Un test Con un ragazzo Che siamo andati a fare Un duo Su custom E E eravamo Nell' Nell'uscita Del benzinaio E allora Eravamo spawnati Tutte e due Insieme Fortunatamente E appena Gli dico Magari di saltare O di girarsi Vedo che salta E si gira Instant Sento un orso Che vediamo Se non lo agriamo Si gira Instant Però Lui non mi vede Cioè Mi metto dietro Di lì Dico Girati Sono dietro Di te Lui si gira Subito Proprio appena Io lo dico Lo vedo subito Che si gira Ma io non sono dietro Ora Qualcosa mi sta inseguendo Ok Minchia 20 colpi E quindi Non c'ero E Non capisco Se è tipo Ho un PG Buggato Un account Buggato Qualsiasi cosa sia Ho pure provato A resettare I dati di gioco E non è cambiato Nulla Quindi Cioè Sono un po' Cioè Eh Insomma Non so che cosa dire Oh uno shotgun Mi piacciono i shotgun Non so cosa dire Perché Posso droppare Lo shotgun E Cioè Eh Davvero Eh Cazzo Io vedo Le persone Che si girano Subito Ma io non esisto Dietro di loro Quindi è un po' Un Qualcosa di strano Davvero Davvero Strano Cioè Davvero Non so che cazzo dire Cioè Sto qui a parlare A spiegarvi quella cosa E non so nemmeno Che minchia dire Perché È troppo strano Cioè Non laghi Perché se laggavo Proprio magari Di ping Io dicevo Di girarsi E non Non lo vedevo Subito Magari lo vedevo In ritardo Di quant'ero Perché Avevo un ritardo Di 30 secondi E quindi Eh 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 Vabbè allora Qua ci sono i looter Quindi i miei amici Così ci Ci prendiamo anche Un po' Di riposo E sì Quindi il problema È questo Che Il mio personaggio Lagga Ma in sostanza Non laggo Io M'ho provato A scrivere qualcosa Ai dev Ma tanto Non rispondono Perché sono bravi E nulla Poi ho provato Anche a chiedergli Quell'account Che danno agli youtuber Quello Pieno di armi Subito All'inizio Gli ho scritto Perché adesso Come è messo È impossibile Portare dei contenuti Quindi Sarebbe perfetto Se Sarebbe perfetto Avere quell'account Per portare Più contenuti Su escape Perché comunque Eh Se non mi sbaglio È l'unico canale Che lo sta portando In questo modo escape Cioè di continuo Perché Insomma È il È il gioco Predefinito Di questo canale Cioè c'è quello Insomma c'è quello No nel senso Ho aperto Ho aperto Con quello E Il canale Era concentrato Su quello Infatti Il canale Si chiamava Escape from Tarkov Italia E quindi nulla Ora mi dispiace Che non c'è stato Un po' di azione Non so nemmeno A quanti minuti Sono Controllo Ok allora Controllato Siamo a circa 14 minuti Forse non so Se ho messo Qualche taglietto Perché alla fine Ho parlato Tutto il tempo E Sì direi che posso andare Nella zona Dove C'erano un po' Di NPC Così magari faccio Cioè no Veramente avete già visto Cioè chi l'ha visto Come si spara Cioè com'è Il sistema Di Di sparo E In questo gioco L'ho praticamente Pagato Meno di 5 euro Perché ne costava 9 Avevo 2 euro e 20 Su steam Quindi 9 8 No scherzavo Sì sui 6 euro Allora Sui 6 euro Prezzo pieno 9 E Prima di sparargli Prezzo pieno 9 Invece Appena uscito Costava 6 euro e 70 Allora Quello Mi pare di averlo Buttato giù Ok C'è uno dietro la macchina Ok Vediamo se Eh Ok Allora qui Allora qui Vedo solo lui Aia Lo Buttato Buttato a terra Non capisco Quindi meglio Buttarsi uno di questi Che è più pesante Di quello giallo Ah ok Sì Allora Quella a terra Questo qui E credo anche l'altro Dovrebbe essere a terra Qui ho 25 Che cazzo Ce la farò Minchia mezz'ora Ci mette per curarsi Cioè in effetti È vero Se uno si cura Gli ci vuole così tanto Ok Allora qui Sistemiamo un attimino Sì Ok Ti buttati A terra Uno Quello è già morto Vediamo Allora Assolutamente La prendo 35 Non c'è spazio Non c'è spazio Vediamo se da lui Riesco a raccogliere Dimmi questa Dai Se butto questi E dai La maschera Antigasso La voglio assolutamente A questo punto Dammi anche questo L'elmetto Non lo posso tenere Quello va via Voglio la cappa Voglio quella cappa A tutti i costi Se butto via questo No 29 kg Toolkit Posso buttare quella Sì Posso solamente buttare la batteria Ah Quindi Ancora 29 kg Ok Sort Ok Ho l'elmetto Questi due a cappa Ho tutto Ho tutto Tanto Insomma Posso droppare Questo elmetto Perché Questo è il 25 Questi sono al 30 E nulla Quelli sono cose Al 7% Ho messo L'arma Non volevo Ok Allora Siamo andati a uccidere Chi volevo uccidere Siamo arrivati Dove volevo arrivare E ora L'unica cosa È di riportare Tutto indietro Dammi Questi Che non posso Dai che Li posso usare Per Allora Mi voglio mettere La maschera Antigas Assolutamente Vediamo se ora Eh No Se droppo Se droppo una soda Dai Questi posso prendere No scherzavo Sort Dai se droppo Il painkiller No scherzavo Allora sapete cosa Unload Drop Drop tantissimo Prendo questo È così Vediamo Bene Dopo mezz'ora di cosi Non è quella Ok bene Siamo usciti da quel posto Io ho preso Questa K La seconda Io ho tolto i colpi All'altra ovviamente E Nulla Ora non so Spero di non aver raggiunti 20 minuti Forse sì Non lo so Però spero che Ci siate Stati per tutti I 20 minuti Ora Ci ritorniamo qua Almeno Siamo un po' Un po' sicuri Quando vado a respawnare E Di solito vengo qua Perché so Che qua Mi c'era spawnato Una volta un cecchino E quindi Io tento la fortuna Ogni volta Oh Questi Ok Ok E niente Quindi ragazzi Io vi saluto Spero che vi sia piaciuto Spero che ci siete stati Fino alla fine E Questo non so Se è l'unico Ehm Coso Mh Se è l'unico video Di questa settimana Però magari potrebbe esserci un altro Però questa volta Su Dark and Light Quindi niente Io ragazzi vi saluto E ci vediamo Nel prossimo video E vi ringrazio ancora Per gli 80 E passo iscritti Grazie davvero Ciao Ciao E vi ringrazio ancora